Grazie 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 Presidente numero 1 Presidente Grazie Sì Roman Sono Sì Sì ero Sì Sì Sa Sì Sì per fare il cane subito i nostri ospiti, i nostri personaggi che in questo pomeriggio saranno con noi nel nostro salotto. Io inizierei subito a presentare la dottoressa Camila Dripilò, giornalista della pagina Dripilò. E per una caglia di più. Continuiamo con la porta i nostri ospiti e il nostro salotto in questa conferenza che ovviamente bravoto verrà anche i nostri ospiti, l'onore Claudio Battisio Ficortoi. E ancora è un momento di approcciare, parlo a Carlo, Arcello, Siracusa, socio promotore, anche con il mio premus, obbligio a parte di Santa Lucina del Mera. E poi il momento di farlo in casa è il momento di annunciare a tutti noi il nostro sindaco di Santa Lucina del Mera, l'ha portato a Teo Siongo. E poi il Moione di serviti, il fam Scott, il loro disabilitiese, il nostro SAMPO. Iniziamo! Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.